Concludiamo parlando di poesia, andiamo da Riccardo Ciccarelli per scoprirlo. Riccardo ciao, a te la linea. Gloria un saluto a te e ai nostri telespettatori, rinnoviamo come ogni lunedì l'appuntamento qui dallo spazio GP Motors, il protagonista del nostro appuntamento, lo avete visto inquadrato pochi istanti fa, è il libro di Giulio Locatelli, Essere fragile, edito da Libri Italia. E ne parliamo subito con l'autore che intanto ringrazio per la disponibilità e per essere nostro ospite. Dicevamo, la collega lanciando da studio questo collegamento ha giustamente posto l'accento sul tema della poesia, perché è un po' il focus che andiamo ad affrontare. Come nasce appunto l'idea? Lei tra l'altro è autore anche già di romanzi, saggi, come arriva la poesia? Allora, la poesia è stato diciamo il mio primo amore, io da sempre scrivo poesie, però la poesia è un'attività che richiede molto tempo, molto tempo, proprio molti anni per poter avere un numero di poesie sufficiente per poter fare un volume. E quindi nel frattempo mi sono dedicato ad altro e appunto ho scritto dei saggi storici e due romanzi che hanno avuto anche diciamo un certo successo. Poi l'anno scorso, anzi no, inizio di quest'anno mi sono deciso di scrivere questa poesia, questo libro di poesie, questa raccolta, innanzitutto perché appunto avevo un numero sufficiente e poi perché mi sono accorto, rileggendole, che queste poesie avevano comunque un tema comune e il tema comune era quello della fragilità dell'uomo, da qui il titolo Essere fragile. Il libro, tra l'altro io ho voluto dare una destinazione anche diciamo a dei fini sociali, in quanto il ricavato verrà destinato all'istituto di Agazzi, in particolare al diurno che si occupa di persone con disabilità. Perché io ho un figlio che frequenta questo diurno e quindi mi piaceva l'idea comunque di contribuire grazie alla poesia che poi diciamo è un'arte abbastanza effimera, quindi sicuramente non deve dare secondo me fini di lucro. Però ecco, il ricavato di questo volume probabilmente porterà dei benefici a questo reparto dell'istituto di Agazzi. È un volume che ci accompagna diciamo anche all'interno di un viaggio introspettivo, una sorta anche di dimensione molto intima, con la suddivisione in quattro sezioni principali. Sì, ho voluto dividere appunto le poesie in base a delle fasi della giornata, quindi la mattina, il pomeriggio, la prima sera e la notte. Proprio per sottolineare anche lo stato d'animo dello scrittore e in ogni caso anche del lettore. Quindi si parte con delle poesie ad ampio respiro, quelle rivolte appunto alla mattina e al primo pomeriggio, per poi andare verso una situazione un po' più cupa, un po' più introspettiva. Però la cosa che vorrei sottolineare è che non sono poesie tristi, perché è una cosa che non fa parte neanche del mio carattere, la tristezza. Sono poesie che prendono in considerazione varie fasi e vari momenti della fragilità che appunto può accadere nella vita di una persona, ma che hanno sempre uno spunto nel finale per dare una speranza. Quindi sono poesie che poi si leggono con una certa anche leggerezza, proprio perché lasciano il lettore, secondo me, con un animo più sollevato. Molto bello il messaggio di speranza anche che arriva da questa raccolta di poesie. Ci racconta invece come nasce il suo rapporto con la scrittura, visto che non è legata alla sua attività professionale e le consente appunto anche di spaziare tra generi diversi. Il mio rapporto con la scrittura è un rapporto che inizia tanto tempo fa. Io ho sempre scritto, sono stato sempre un appassionato di scrittura. In particolare ho iniziato con dei saggi storici. Il più famoso è una ricerca che ho fatto sul Casentino, dall'Unità d'Italia alla Prima Guerra Mondiale, una storia sociale del Casentino. Poi ho scritto altre cose, tra l'altro, proprio una cosa di attualità, sono stato curatore di un libro su Galileo Chini e di Liberty nella Retino. Quest'anno sono i 150 anni della nascita di Galileo Chini e proprio ieri ero all'archivio di Stato per promuovere il libro. E poi, durante la pandemia, come è successo a molti, durante questi mesi che siamo stati chiusi in casa, ho colto l'occasione per mettere alcune idee che avevo in mente, nero su bianco. E da qui è nato il primo romanzo. Poi, visto la critica positiva, ho deciso di scriverne ancora e altri probabilmente verranno in futuro. Noi siamo quasi giunti alla conclusione di questo spazio. Colgo l'occasione per domandarle, e le chiedo una risposta telegrafica, il rapporto con l'Associazione Tagete come nasce? Il rapporto nasce nel momento in cui ho deciso di scrivere il primo romanzo. Ho pensato di scrivermi a questa associazione, che conoscevo perché è storica, di Arezzo, per avere un rapporto con altri scrittori. È una bella associazione perché è proprio una bella comunità di scrittori e ci ritroviamo per le varie presentazioni, ci scambiamo delle idee e è un'occasione veramente interessante per potersi confrontare con altre persone che condividono la stessa passione. Allora, noi cogliamo l'occasione per salutare anche la professoressa Patrizia Fazzi, che è motore e anima dell'Associazione Tagete. Andiamo a ringraziare Giulio Locatelli per averci presentato Essere Fragile, edito da Libri Italia, questa bella raccolta di poesie. Gloria, se non ci sono domande da studio, noi ti restituiamo la linea. No, grazie Riccardo e grazie anche a tutti voi per averci seguito. Spunti e spuntini termina qui, ci ritroviamo domani come sempre a partire dalle 13. Vi lascio agli altri programmi di Teletruria, domani.